Buongiorno coach, domenica a Cantù per la prima volta ritrova un avversario che ha già affrontato in stagione, Monferrato Basket. Come è stata la preparazione in questa settimana? Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, i ragazzi sono stati molto concentrati, molto intensi, siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Chiaro che il lavoro fatto è in funzione sia della partita che del proseguo di questa stagione. Arriva Casale che abbiamo già affrontato ma è una partita assolutamente da non valutare in funzione di domenica perché è una partita di prestagione in realtà. Era una partita dove loro mancava Martinoni che è un giocatore cardine del loro roster. Chiaramente tutto è cambiato da allora. Arriverà una squadra affamata di punti perché è vero che ha strappato i due punti domenica scorsa però perdendo la partita quindi è una situazione anomala. Non sappiamo bene quale potrà essere la loro reazione dal punto di vista emotivo ma ci interessa poco. Nel senso che è una squadra che arriverà, non avrà nulla da perdere, lotterà sicuramente per provare a strappare la vittoria. Come ho sempre detto anche prima di partite contro Trapani, Torino e via dicendo, il nostro focus deve essere più su noi stessi che non sugli avversari e quindi anche questo giro diciamo così che la nostra strada è questa. Buongiorno coach. Buongiorno. Come sono le condizioni di Moraschini e se conferma che sarà della partita? Moraschini sarà della partita, si è presentato in buone condizioni, è chiaro che l'atleta è allenato, è altrettanto vero che essere allenati dal punto di vista individuale non significa avere quello che tutti chiamiamo il ritmo partita, cioè comunque il giocare una partita è una cosa diversa, necessiterà di tempo però diciamo che così dal punto di vista fisico e atletico il ragazzo è pronto già a darci una mano. Buongiorno coach. Buongiorno. In vista della partita di domenica le chiedo come sta la squadra in generale e la situazione in Fortuni Baldi Rossi e Luca Cesana. Sì, Luca ha cominciato a fare cose diverse, quindi a correre seppure con ritmi blandi però a dare continuità a questa cosa, quindi siamo molto fiduciosi e speranzosi, i tempi adesso non li conosciamo ancora perché quando aumenteremo un pochettino i carichi vedremo anche la sua reazione, però sta facendo delle cose che fino a due settimane fa non riusciva a fare, quindi per quanto riguarda il capitano dice di sentirsi molto meglio, abbiamo dei tempi stabiliti ma ci affidiamo come sempre in questi casi anche alla sensazione a maggior ragione di un giocatore così esperto e che si conosce, sta facendo terapie, sta continuando a fare tutto quello che il nostro staff tecnico gli dice di fare, è seguito molto bene chiaramente dai nostri professionisti, siamo anche con lui molto fiduciosi, non ci diamo dei tempi non per l'altro ma perché anche con lui poi i primi segnali del campo ci diranno un pochettino quanto siamo vicini o meno al suo rientro. Per quanto riguarda tutti gli altri giocatori stanno bene, si sono espressi dal punto di vista fisico e energetico molto bene questa settimana e quindi confidiamo di fare la nostra migliore partita che abbiamo nelle corde oggi. Buongiorno coach, Kelly e Pepper sono i due punti di diamante di Monferrato, la duttilità di Moraschini può servire per la loro marcatura? Allora, per quanto riguarda i due americani dei nostri prossimi avversari sono due americani forti, Kelly è uno dei migliori marcatori, adesso non so quanto sia posizionato onestamente perché le statistiche le guardiamo però le valutiamo anche nel modo giusto, è sicuramente uno dei migliori marcatori del campionato, è un giocatore che ha tanti punti nelle mani senza dilungarci troppo, Pepper invece è un americano che ha già tanti anni che nella nostra categoria produce e produce in maniera diversa perché è anche un giocatore fisico e sicuramente, ripeto, sono due giocatori da attenzionare in maniera particolare senza chiaramente perdere di vista altri punti di forza che può avere la squadra avversaria, invece tornando al discorso della duttilità di Riccardo, non abbiamo preparato una partita dove le caratteristiche di Riccardo possano già sparigliare un pochettino la partita dal punto di vista tattico perché abbiamo un gruppo molto solido che ha dimostrato di essere in grado e di avere le caratteristiche e le qualità per opporsi alle skills diverse dei nostri avversari, diamo il tempo a Riccardo di inserirsi, sicuramente lo utilizzeremo per quelle che sono le sue caratteristiche, però non è tatticamente parlando un focus su quale abbiamo messo una particolare attenzione. Buongiorno coach, volevo chiedere un po' a proposito della squadra e di Moraschini, posto che sicuramente vi dà un vantaggio a livello numerico, un miglioramento rispetto banalmente alle ultime due settimane senza due giocatori. Volevo capire un po' il suo impatto, visto che è un giocatore molto particolare per tanti motivi sul gruppo, se c'è stato un buon inserimento o se prevede magari anche, non dico difficoltà, però è un giocatore molto molto importante in questo momento. Riccardo è un giocatore importante che abbiamo cercato e voluto e che il gruppo ha già dimostrato in questa settimana di aver assorbito l'inserimento di un giocatore così nella direzione in cui noi volevamo e ci aspettavamo, c'è un grande e un forte aiuto per la squadra e per il gruppo. Dite sempre voi, ogni volta che parlo con voi, che siamo a Cantù e che quindi bisogna semplicemente solamente giocare per vincere, quindi questo gruppo che ha l'ambizione di provare a farlo, vedendosi un aiuto del genere, non può altro che prenderlo in maniera positiva, ma è anche legittimo farsi questa domanda nella maniera più assoluta. Lui, tra l'altro, è già stato detto da altri in questa settimana, è un giocatore che ha determinate caratteristiche, che ha caratteristiche non di Go2Guy, cioè non di quel giocatore che ha bisogno di palla in mano per produrre, ma è un giocatore che ci porterà a durezza mentale, abitudine all'alto livello, capacità fisica nel gestire più ruoli e quindi il suo aiuto è un aiuto assolutamente a 360 gradi che ha già portato benefici all'interno della sicurezza di questo gruppo. Per quanto invece riguarda, diciamo così, i potenziali problemi, sono semplicemente problemi di normale inserimento, di un uomo all'interno di un gruppo che già due mesi che lotta e sgomita per riuscire a far andare bene le cose che stanno andando bene, ma che non sono state automatiche perché abbiamo avuto dei problemi che siamo stati bravi a superare, e sono convinto che sia lui che tutti i ragazzi che l'hanno accolto molto bene sapranno trovare la giusta strada per far sì che questo inserimento sia il più morbido e il più veloce possibile. Coach, ha detto di Moraschini che è un aggiunto importante, l'altro aggiunto importante è Cortis-NoWatts. Allora, ha giocato un'ottima partita, ha dimostrato, l'ho detto in sala stampa dopo la gara giocata domenica scorsa contro Rieti, ha dimostrato innanzitutto una cosa che deve essere ben salda nella testa di tutti i miei giocatori, ovvero che il lavoro paga. Le cose non vengono da sole, non vengono in automatico, vengono solo grazie alla dedizione, al sacrificio e al lavoro quotidiano. Lui è partito, ripeto, da una situazione sfavorevole, due anni che non giocava, due infortuni molto gravi, ha lavorato tantissimo come tutti i suoi compagni, non di più e non di meno di tutti gli altri, e piano piano ha trovato prima una condizione accettabile, poi un pochettino di fiducia in se stesso, che non era scontato, non era semplice. Come ha detto Baldi Rossi nell'intervista post partita, un po' tutti aspettavamo e ci aspettavamo che lui a un certo punto potesse darci una mano, perché la sua voglia traspariva in allenamento, siamo tutti molto contenti che sia riuscito a darci questa mano, è chiaro che fare una buona prestazione è importante, bisogna dare continuità, questa continuità per lui non sarà semplice, quindi il suo prossimo cammino sarà ancora un pochettino costellato da alti e bassi, però sappiamo di avere un ragazzo molto determinato, molto ben inserito nel gruppo, molto ben voluto dai suoi compagni, che in un modo o in un altro saprà darci una mano quando avremo bisogno.